Ciao a tutti, per i vostri regali di Natale quest'anno mi permetto di farvi un'offerta speciale. Vi propongo il mio libro 6, scuola esoterica iniziatica, che ho pubblicato proprio quest'anno, in cui spiego l'essenza di quelle scuole immortali volte allo sviluppo animico e spirituale. E poi il mio disco che ho pubblicato nel 2010 è composto The Seed, in cui ci sono 24 brani ispirati al pianoforte, un disco, un album molto autobiografico, che anch'esso racconta in un percorso musicale, in un percorso sonoro, quello che è il cammino animico di ognuno di noi, quando si intraprende il sentiero della luce. Questi due bellissimi regali li possono arrivare in un pacco unico per i vostri presenti di quest'anno, per regalarli alle persone che amate o a voi stessi scrivendo una mail a scuolaesotericoiniziatica.com e noi vi risponderemo il prima possibile e ve li spediremo il prima possibile. Un caro abbraccio e tanti auguri per queste feste sante. A presto!